Benvenuti alla conferenza stampa pre-partita di Virtus Verona Provercelli. Mister, ultima giornata di regular season, si può dire che è praticamente una finale? Eh sì, è una partita da dentro fuori, dove per noi ci sono due risultati su tre, ma forse più di altre squadre, molti allenatori si sentono dire che non dobbiamo fare calcoli. Quando abbiamo fatto un certo tipo di partita, in sette minuti a Novara abbiamo preso due gol. Non abbiamo fatto 0% di possesso palla, quindi siamo stati un certo tipo di squadra con alti e bassi per 38 partite e lo dovremmo essere anche domani. Il ragazzo li ho visti bene, ho lavorato bene. Secondo me, nelle ultime sei partite, a parte il secondo tempo di Alessandria, che mi sono arrabbiato pesantemente a fine partita, perché sapevo che quei due punti lì erano importanti per noi e ci permettevano di essere in un'altra situazione ora. Però il significato doveva andare così, ci siamo, tra virgolette, un po' complicati la vita, però li ho visti molto bene, stanno lavorando bene. Sicuramente andiamo in un campo difficile, in un campo stretto, in un campo con giocatori esperti, perché è una squadra con giocatori esperti, con giocatori che hanno fatto anche carriere importanti. Dobbiamo essere noi, ma avere anche un po' di timore, un po' di paura, per referenza su una squadra, secondo me, che ha avuto una seconda parte di campionato un po' difficile, però nell'arco di due anni è una squadra che ha un'ottima identità, ha dei buoni giocatori e quindi giusto rispetto, ma voglio una pro all'attacco, una pro che provi a dominare il gioco. Ho chiesto questo ai ragazzi, lo vogliamo, lo voglio io, ma lo vogliono anche loro per mettere il punto finale a questa stagione. Grazie mister.